lo avresti mai pensato che per pulire bene nella nostra nella vostra casa magari bisognava seguire dei consigli di un monaco buddista ma io no non ci avevo mai pensato eppure è così ci sono sette consigli di un monaco buddista per fare pulizia nella maniera giusta nelle nostre case se cerchi sempre di mettere insieme tutte le tue energie per iniziare a fare le pulizie nella tua casa però trovi sempre qualcosa di meglio da fare allora questi consigli del monaco buddista fanno proprio per te sembrati ai monaci buddisti diano alla pulizia della casa un significato molto profondo che potrebbe essere d'aiuto per tutti quanti noi fare i lavori domestici come i monaci buddisti non è difficile al contrario può risultare anche molto divertente infatti se vogliamo purificare la nostra anima senza muoverci da casa possiamo farlo trasformando le pulizie in esercizi spirituali quindi pulizia della casa con la pulizia dell'anima un ottimo abbinamento c'è in particolare questo monaco che si chiama tulku tondup che ha lavorato per tutta la sua vita nella traduzione nell'interpretazione di antichi testi di buddismo tibetano ed ha pubblicato una azienda di libri che parlano e proprio di questo insegnamento buddista e in ogni aspetto della vita questo monaco dopo aver vissuto in tibet poi stato negli stati uniti dove ha partecipato a varie accademie e attualmente si trova in ritiro presso un monastero dal quale però gestisce un web sembra che abbia detto che per l'uomo e anche per lui stesso pulire il monastero sia uno dei compiti spirituali più importanti appunto per questo ci date i consigli anche a noi che viviamo nelle nostre case se fossimo grato di superare la virtù il merito lo scopo di pulire saremmo capaci di apprezzare il compito come un privilegio che come un peso quindi non ci sembrerà più un lavoro sporco bensì la prenderemo come un'opportunità per praticare la meditazione in una maniera unica tutto ciò potrebbe essere una fonte incredibile di benefici ed un modo per far crescere la nostra forza spirituale mentale e di motiva pulire il luogo dove abitiamo in maniera consapevole può trasformare la nostra vita perché ci permette di liberare la mente e di non pensare ai problemi e quindi rafforzare la nostra concentrazione con la meditazione sul movimento questo spazio sacro che ci dà così tanto ha delle necessità però che a volte trascuriamo soprattutto per via dei mille impegni quotidiani così le faccende si accumulano i vestiti si ammucchiano nell'armadio i piatti sporchi crescono nella velo della cucina e non troviamo più neanche un piccolo spazio dove poter appoggiare qualcosa a questo punto la casa cessa di essere un rifugio per diventare un luogo che genera stress e di infelicità quindi ci diventa un peso fisico mentale e spirituale ed ecco qua che arriva lui tulku tom dup eccoli qua i suoi consigli chi non si prende cura degli oggetti non si prende cura nemmeno delle persone non dobbiamo dimenticare che ogni oggetto è stato creato grazie al lavoro di qualcuno e quindi per questo dobbiamo prestare attenzione e prendercene cura quando è il momento di pulirlo mostrando rispetto e gratitudine per questo lavoro dovremmo essere grati delle cose che ci sono servite dobbiamo riciclare quello di cui non abbiamo più bisogno per fare in modo che qualcuno a cui serve possa continuare ad utilizzarlo oh oh qui abbiamo un parente della Mary Kondo il terzo consiglio se cominciamo quando c'è silenzio circondati dalla calma quando ancora la vegetazione e le persone nei dintorni stanno dormendo il nostro cuore si sentirà in pace e la nostra mente limpida è per questo motivo che dovremmo cominciare a pulire durante le prime ore della giornata mentre prima di dormire dovremmo limitarci solamente a riordinare un po' per agevolare il lavoro nel mattino successivo il quarto consiglio dobbiamo aprire le finestre e lasciare che circoli l'aria per tutta la casa prima di cominciare a pulire l'aria fresca ci farà avere più voglia di pulire e inoltre ci permetterà di entrare in contatto con la fragilità umana la natura e la forza della vita il quinto consiglio non lasciare i piatti sporchi del cibo durante la notte i piatti si lavano quando finisce il giorno e i rifiuti organici si trasformano in compost per le piante tutto in casa funziona come un ecosistema il sesto consiglio quando stai pulendo pensa solo ciò che stai facendo in quel momento evita che la tua mente divaghi o che si concentri su altre cose mantieni la tua attenzione sul qui ed ora del compito che stai svolgendo e in ultimo al settimo consiglio dividi sempre i lavori domestici con gli altri membri della famiglia o con le persone con cui condividi la casa così imparerai a dare il giusto valore al lavoro degli altri e capirai che tutti dipendiamo l'uno dall'altro non è un caso che molte culture e religioni risalti l'importanza della pulizia per esempio un discepolo di Buddha disse che raggiunse l'illuminazione mentre spazzava i pagnimenti pensate un po' per quanto puliamo ci sarà sempre qualcos'altro da pulire quindi coinvolgiamo tutta la famiglia nei lavori domestici la pulizia è una fonte di rinnovamento quotidiano alla portata di tutti puliamo casa, meditiamo, soffermiamoci in tutto questo ora e talabora come diceva qualcuno cerchiamo comunque di dare al nostro meglio se ti è piaciuto questo video lasciami un like se sei curioso di scoprire altri argomenti di questo genere quindi continua a seguirmi iscriviti al canale rimaniamo in stretto contatto grazie a tutti